Qua si sta smontando tutto, sia qua che qui, sia quest'altra altalena. Qua non si cammina proprio, è stretta, le piante vanno al ridosso del passaggio pedonale. Anche qua la stessa cosa. La pianta va al ridosso del passaggio pedonale, anche questa è l'altalena per bambini, si muove allentata e qua, come vediamo, oltre alla solita sporcizia, pacchetti di cartine. Qualcuno che forse fuma qualcos'altro oltre le sigarette. Mozziconi di sigarette tagliate per fare spinelli. Ok, giardino del salice. Come vedete qui c'è di tutto. Partiamo da semplici rifiuti, escrementi umani. Mozzicone di sigarette non ed altro. Tutto qui. Anche qui. Anche qui. Ecco qua, questo è il, diciamo, un piccolo parcheggio, piazzetta, antistante, giardinetti. E qua abbiamo proprio i rifiuti depositati, bottiglie di plastica, anche lì. Grazie. 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 Grazie.